Benvenuti cari follower, c'è un avvertimento molto severo per tutti gli italiani a partire da domani mattina, martedì 13 agosto 2024, ma prima di entrare nei dettagli spero che condividiate questo avvertimento ovunque e con i vostri amici per evitare qualsiasi problemi o perdite dovute al tempo molto brutto e difficile. Grazie. Domani, martedì, il modello europeo lancia quindi due avvertimenti all'Italia. La prima avvertenza del pericolo di temporali forti e improvvisi, domani sera, martedì, nelle marche meridionali di Umbria, Abruzzo e Molise, temporali isolati su varie zone di Campania, Calabria, Nord Sicilia, Nord Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia Veneto e Nord Valle d'Aosta. Si avverte con forza il pericolo di alluvioni improvvise, soprattutto sulla regione Umbria-Abruzzo e le zone circostanti. Seconda avvertenza sul rischio di registrare domani un significativo rialzo delle temperature per Liguria, Nord Piemonte, Valle d'Aosta, Nord Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia, Nord Sardegna. Le temperature oscilleranno tra i 30 e i 43 gradi all'ombra, quindi è fortemente richiesta cautela.